Musica Bene ragazzi io sono Shaoraga e questo è il mio nuovo video Allora, c'eravamo lasciati su quei livelli finiti abbastanza in fretta Sperando che anche oggi sia così Ma visto il fatto e mi hanno dato sto coso brutto che lancia le mine Mi sa che non sarà così E si vai Proprio, ok Fatto niente, niente Bella ragazzi Non è successo niente Oh, forse col lancio a fiamme Vieni, vieni, vieni Ma no! Quel masso di merda Vieni, scendi 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 pure tu, bravo Ok Eccomi Eccomi, sto qui Siete rincoglioniti? Che avete fatto? Com'è? Volevate preparare il mega trappolone? Ok, però, che palle Resistono il fuoco, non va bene Che cosa? Perché spara da solo questo? Si è incazzato per il compagno morto Andiamo Ehi, che salti atletici Che salti atletici Che fa questo ragazzo Dove vincere le olimpiadi di salti E che palle Ok, usiamo subito il potere Oh, beh Usiamo subito il potere speciale Tu metti buggy? No Dai Come è iniziata questa puntata Non va proprio bene, ragazzi Ecco E ci vendichiamo già subito Fatto bene Ma perché? Porca troia Hai rotto i coglioni Tutti i stallini di merda Fanculo Ecco, vengo il trappolo Va bene? Dai Su Aspetta, su Eh, rompi scatole Ehi, che cavolo Perché spara da solo? Venite, dai Eccomi Sto qui Ma dai Oh, gli spari in faccia non muoiono Eh vabbè Sì, vai Vai, vai, vieni, vieni No, non è vero mai proprio, guarda Venite dai Oh, tronti pezzi di merda Voi gli alieni del cavolo Vi faccio Vi faccio fuori a tutti le budella, porco giuda Eh, venite Vieni, scendi pure tu, scendi Scendi che ti aspetta, no? Eccomi, eccomi No eh, non scendi Te stacca che è in mano, no? Beh Oh, andiamo adesso Abbiamo fatto piazza pulita Le sentono i granati Che cosa è Che bello Oh, i personaggi Ma no, però Nooo Ma ancora non muori Che bello Mi sono squagliato come se niente fosse E comunque, oh, ragazzi Nooo, un'altra volta Ma un'altra volta Nooo, ragazzi Nooo Ma non va bene Un'altra volta qui stiamo Ma come fanno a morire? Oh, e me sto un attimo a... Vai Spara pure da solo Eh, si vai Oh, e me sto un attimo a morire Oh, eeeh Oh, eeeh Oh, eeeh Stanno 20 anni Buggati E poi non si muovono E poi all'improvviso Vabbè dai Tanto perci muoviamo Rompi coglioni All'unisono proprio Forza, forza Guarda Guarda quello, eh Guarda quello È 20 anni che sta Buggato là Emo, eh Guarda quello Sta 20 anni buggato E poi Viene a rompi I coglioni Ah, bene Ma no Era morto Era morto Era morto Bene ragazzi Eeeh Credo che La puntata di oggi Possa abbassare qui Visto che tanto Non ci riesco Ad andare avanti Come sempre Vi invito a mettere Mi piace A commentare A condividere Se non siete ancora iscritti Di iscrivervi Per supportare il mio canale In descrizione In descrizione Come sempre Troverete I link utili Di second live Eeeh Al prossimo appuntamento Qui con Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi